Ciao papà, torno a casa per qualche giorno. Ti voglio bene. Perfetta. Ciao. Finalmente era ora. Sempre in anticipo. Dovici subito? Dai, andiamo a casa. Esci con qualcuno? Sì, anche tu dovresti cercare compagnia. Io? Ma io c'è te. Creven! Oddio. Ci sono ancora tanti punti poco chiari, ma pare che il vero obiettivo fosse il detective Thomas Creven. È una persona armata e pericolosa. E io che ti sembro. Come l'ha presa. Emma, Creven non c'è. Chi parla? Signor Creven, ho qualcosa da dirle. Davvero? Cominci dal nome. O da chi ha sparato a sua figlia. Voglio sapere che faceva qui mia figlia. È un'informazione riservata. Emma, Charlotte Creven era considerato una possibile minaccia per gli Stati Uniti d'America. Mia figlia non era il tipo. Qui non stiamo parlando dei soliti giochi di potere. I casi come questo restano irrisolti. Non si arriva mai a collegare A con B. E lei come lo sa? Perché sono io che impedisco di collegare A con B. Ha intenzione di inseguirmi anche a Boston. È avvenuto all'inferno. Che cosa si prova? Annulliamo l'operazione. Troppo tardi, è già iniziata. Non arresterò nessuno. Io non lo faccio mai. È fuori dalla sua giurisdizione. Mia figlia era Ebba Creven. Non ho niente da perdere. Allacciti la cintura. Decidi se vuoi essere quello che è messo in croce o che pianta i chiodi.